Quadrifoglio S.P.A. sta introducendo una nuova modalità di raccolta differenziata dei rifiuti. La nuova modalità prevede l'utilizzo sia di contenitori interrati più capienti, che rendono più bella la città, che di contenitori differenziati che occupano meno spazio rispetto ai precedenti. Per migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata, su ogni sportello è riportata l'immagine fotografica della tipologia di rifiuto che deve essere conferita. Molti dei coperchi dei contenitori per il rifiuto residuo non differenziabile sono dotati di una calotta che si apre con una chiave elettronica abbinata ad ogni singola utenza. Queste novità consentono di aumentare qualità e quantità della raccolta differenziata e favoriscono un comportamento più consapevole, aiutando i cittadini a separare in maniera più semplice i rifiuti, per una corretta raccolta differenziata. Per qualsiasi dubbio o informazioni sui servizi di Quadrifoglio, chiama il numero verde 800-330011 e 199-163315 o consulta il sito www.quadrifoglio.org Scarica l'app TrashCube per scoprire sul tuo smartphone dove conferire ogni rifiuto.